web tv della Camera. L'ordine del giorno rega l'audizione del colonnello Antonio Sassi, capo ufficio analisi del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, nell'ambito del filone d'inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Io nell'introdurre il colonnello lascio una piccolissima traccia semplicemente perché si resti inquadrati nel tema che ci interessa. Ecco colonnello a noi interessa innanzitutto capire come funzionava e come funziona oggi l'ufficio che lei dirige per capire come sono state possibili le notizie che hanno portato all'inchiesta di Perugia uscissero da quegli uffici e ci interessa capire innanzitutto dove era collogato l'ostriano se si trovava tre giorni presso la DNA come a noi risulta e gli restanti due giorni della settimana invece al valutario che cosa faceva a chi rendeva conto in quella sede insomma tutte le questioni che riguardano i fatti che ben si conoscono ormai. Prego colonnello. Chi si vuole scrivere nel frattempo si segnala. Grazie presidente. Allora una brevissima introduzione innanzitutto sul l'ufficio di cui ho la responsabilità dal 29 luglio del 2021 che è un ufficio un'articolazione interna al nucleo speciale di polizia valutaria non è un'articolazione operativa ma è un'articolazione di staff direttamente dipendente dal comandante del nucleo speciale quindi è di supporto e di analisi e ha fra i compiti elenchiamo magari i principali per essere maggiormente sintetici un compito diciamo di coordinamento e gestione ovviamente del suo personale un compito di gestione del patrimonio interno informativo interno del nucleo speciale quindi dello schedare dell'archivio. Alle dipendenze inoltre cinque sezioni di analisti ognuna delle quali diretta da un ufficiale di vario grado a seconda della sezione quindi attualmente dal grado di tenente al grado di maggiore che si occupano in maniera sostanzialmente esclusiva dell'analisi delle informazioni antiriciclaggio cioè delle segnalazioni di operazioni sospette e delle informative dalle fio estere che ci arrivano nel flusso che abbiamo in maniera sistematica dall'unità di informazione finanziaria e da ultimo alle dipendenze la sezione dna che presta il suo servizio presso la sede della procura nazionale antimafia a disposizione del procuratore con il nuovo protocollo e alle dipendenze funzionali del procuratore nazionale antimafia. Questo per introdurre quanto alla posizione lavorativa del tenente striano di cui abbiamo parlato posso dire che come ovviamente riferisco sulla situazione che ho notato e che ho gestito a partire dal luglio appunto del 2021 le gli accordi che erano stati presi con la procura nazionale antimafia a suo tempo quindi sin dall'arrivo del tenente striano nel marzo del 2019 prevedevano la possibilità che lo stesso svolgesse un paio di giorni alla settimana la propria attività che era comunque sempre comandata dalle strutture e dalle competenti strutture della direzione nazionale antimafia presso la sede della nucleo speciale di polizia valutaria per la circostanza che presso la sede della del nucleo speciale polizia valutaria erano presenti terminali per il collegamento alle banche dati alle risorse informative che invece non erano e oggi invece lo sono presenti presso la direzione nazionale antimafia questa situazione si è venuta a esaurire quindi non non attualmente il comandante della sezione dna non presta più alcuna giornata di lavoro di servizio presso la sede perché medio tempo nel corso del se non ricordo male dello scorso anno sono stati installati punti di connettività specifici e su richiesta del procuratore nazionale della guardia di finanza e quindi la fruibilità del patrimonio informativo delle banche dati è adesso assicurata presso quella sede per quanto riguarda le attività di controllo su cui mi aveva richiesto il la la presidente specifico che il controllo è strutturato su due livelli e diciamo che è una procedura articolata che prevede un primo livello di monitoraggio e un primo livello di audit e un secondo livello chiedo scusa di audit il primo livello di monitoraggio sull'accesso delle banche dati è demandato da disposizioni interne della guardia di finanza al comandante del reparto nel nostro caso al comandante del nucleo speciale che può delegare e in questo caso ha delegato per quanto riguarda l'ufficio analisi il capo ufficio protempore a svolgere questa attività di monitoraggio che consiste nella selezione a campione di un determinato numero di militari che debbono essere monitorati per i quali viene fatta attraverso i sistemi informativi l'estrazione dei dettagli sulle tempistiche e sugli orari e sul tipo di collegamenti che sono stati fatti alle banche dati e viene verificata la coerenza e la corrispondenza con gli orari di servizio rendi contati nel periodo di riferimento questo controllo avviene con cadenza trimestrale su un campione di militari e può riguardare anche l'intero normalmente anzi riguarda per quanto mi mi è riguardato me l'intero trimestre di riferimento quindi ad esempio i mesi di luglio agosto e settembre di un determinato anno si selezionano tutte le modalità di accesso tutti i dati di accesso e consultazione senza avere contezza dell'entità interrogata questo è importante e si verifica la corrispondenza in caso di anomalia si può si può procedere eventualmente ad approfondimenti cosa intendo per anomalia intendo ad esempio la possibilità che da riscontro delle scritture di servizio del militare emerga che ha svolto orario 8 18 di un determinato giorno e ci risultano interrogazioni di accessi magari alle 19 o in orari in cui o in giornate in cui non risultava in servizio perché magari fruiva di permessi o nel fine settimana o in altre o per altre motivazioni e risultano e risultano accessi vi è poi il secondo livello di controllo che è quello di audit che è demandato all'autorità che ha ordinato il controllo e l'utilizzo e l'accesso delle banche dati per le proprie esigenze e attinge non a risorse che sono nella disponibilità ordinaria del comandante in questo caso del nucleo speciale polizia valutaria ma di qualsiasi reparto della guardia di finanza ma del titolare del trattamento del dato della banca dati su cui ci si sta ci si sta concentrando nel caso del siva o di altre risorse proprio della guardia di finanza quindi il comando generale nel caso del dello sdi il ced interforze del ministero dell'interno nel caso della nagrafe tributaria faccio degli esempi soggei e quant'altro questo questa tipologia di audit di controllo viene ordinariamente attivata in sostanzialmente in tre casistiche macro casistiche possiamo elencare ovviamente la prima è se c'è un'indagine in corso e quindi se un'autorità giudiziaria richiede i dati di collegamento la seconda è nel caso in cui a seguito di del controllo di primo livello del monitoraggio siano emerse anomalie che si ritiene suscettibili di approfondimento il terzo è laddove l'autorità che ha disposto la fruizione delle banche dati per le proprie esigenze di servizio abbia eh necessità di approfondire le entità interrogate e le eh consultazioni eh eseguite. Non so se sono stato sicuramente ci sono i colleghi che entreranno nello specifico prego vicepresidente Dattis la ringrazio per la spiegazione così lei chiaramente non può saperlo ma diciamo le le spiegazioni su come funziona il sistema le abbiamo avute già quindi se l'avessi saputo le avrei chiesto di risparmiare insomma l'ennesima spiegazione. La domanda che le devo fare prima di iniziare è questa lei era direttamente eh nella scala diciamo come posso dire gerarchica soprastriano? Bene. Allora a noi qui non interessa sapere come funziona il sistema delle SOS cioè qua ci ci interessa sapere come mai un suo diretto o subalterno ha scaricato tonnellate di file se si potessero pesare sarebbero tonnellate abbia utilizzato segnalazioni di operazioni sospette impropriamente e di questa roba se ne è accorto qualcun altro che non è stato né lei né il suo superiore né il suo superiore ancora per questo abbiamo iniziato da lei cioè a noi la lezione su come funzionano le SOS quella ce la andiamo a a trovare su wikipedia a noi ci serve sapere come mai lei non sapeva nulla di quello che faceva Striano cioè il campione al quale lei si riferisce possibile che manca al sorteggio vi siete accorti che Striano stava spiando il ministro della difesa il Ronaldo a me non mi ha spiato quindi probabilmente non ero degno di essere inserito in quella a banca dati cioè questa è una commissione di inchiesta e ora pure che ci capiamo cioè noi non stiamo qui a fare il club amici quindi o ci dà delle risposte così o per quanto mi riguarda secondo me l'audizione può anche finire può anche finire qui ci dica come mai lei non sapeva niente di Striano perché perché questo è il problema noi dobbiamo capire cos'è accaduto in questo paese perché è un problema paese non è un problema personale ed è un problema ovviamente anche di sicurezza siccome rivestiamo dei ruoli e dobbiamo rispettare anche diciamo le rispettive divise noi vogliamo sapere cosa è accaduto in quel periodo in cui questo militare della guardia di finanza prestato alla DIA alla procura nazionale antimafia piuttosto che col computer che se lo portava a caso ce l'aveva o ci aveva due connessioni una spostata da lì una questo computer che va da una parte all'altra non si capisce come comunque era le dirette dipendenze vostre quindi se riesce a darci delle risposte da questo punto di vista perché per il resto credo che lo sappiamo è venuto il suo comandante generale a spiegarcelo è venuto sono venuti tutti quelli che operano in questo settore ce l'hanno spiegato ma adesso è arrivato il momento di capire siccome siamo stati investiti direttamente dalla procura di Perugia non ce la siamo inventata noi sta cosa siamo stati investiti direttamente dal procuratore nazionale antimafia in carica come posso dire il procuratore melillo e dal procuratore che ha il titolare dell'inchiesta quindi abbiamo anche una responsabilità pubblica nei confronti del di chi ci ha investito e nei confronti anche di chi ci guarda che sono gli italiani che ovviamente per le notizie che ogni giorno escono fuori fino anche l'impiegato di banca che si permette di di fare quello che vuole ci ci preoccupa sì allora sul sul perché siano avvenuti questi fatti ritengo che la risposta sarà fornita speriamo alla inesito alle alle attività di indagine e di accertamento che sono in corso per quanto riguarda la il controllo posso confermare e ribadire che il controllo sul merito cioè su che cosa il tenente striano o chiunque altri abbia interrogato cioè cosa si è andato a digitare all'interno della della banca dati non è nelle potestà dell'ufficio e perché non è neanche tecnicamente possibile se non attingendo appunto al titolare del trattamento che che è il comando generale ma soprattutto è non era stato ordinato dalla nostra struttura in quanto la aliquota di personale che lavora presso la dna è a disposizione e alle dipendenze funzionali del procuratore nazionale quindi cercare di capire cosa fosse stato ricercato all'interno della banca dati comportava seppur indirettamente tra l'altro andare a accertarsi su ciò che stava su quali attività stava svolgendo la procura nazionale antimafia cioè un ente sul quale noi non abbiamo nessun tipo anzi ci mancherebbe prego vicepresidente quindi sostanzialmente il merito di ciò che faceva striano pur diciamo nella scala gerarchica direttamente sotto di lei era rapportato da striano al procuratore nazionale antimafia non alla guardia di finanza non alla guardia di finanza poi da chi a chi fosse rapportato in concreto insomma abbiamo visto in alcuni casi ad alcune strutture in altre ma comunque sempre alla direzione nazionale antimafia quello che lui il lavoro che l'aliquota fa anche adesso nel merito quindi sui contenuti sulle sui soggetti di interesse e sulle tipologie di indagini di accertamento non viene non veniva prima e non viene ora rapportato all'ufficio analisi nemmeno che meno alla guardia di finanza in nessun modo se non negli scambi informativi che sono previsti dalle norme sulle sosse grazie mille senatore russo sì sempre sul tema dei controlli per precisare ulteriormente quindi domanda precisa quindi non esistevano procedure di controllo codificate da parte del comando della guardia di finanza per gli agenti che erano delegati agli accessi Siva, Serpico e quant'altro se ho ben compreso se per caso comunque è stato fatto nel passato qualche controllo specifico d'ostriano terza cosa e se ho capito bene non è cambiata la vostra procedura Allora la prima domanda esistevano ed esistono procedure codificate che attribuiscono al nostro livello quindi a livello del nucleo speciale polizia valutaria ordinariamente il monitoraggio cioè quell'attività di cui ho parlato prima sulla coerenza con gli orari di servizio a ricorrere di eventuali anomalie quindi se fosse emerso che un militare ha fatto interrogazioni fuori orario al di fuori o in una giornata in cui non era in servizio ordinariamente e in quel caso si può decidere se avviare degli approfondimenti con i rispettivi titolari del trattamento delle banche dati quindi se parliamo di Siva il comando generale se parliamo la seconda domanda era Si è stato controllato vado a memoria ma sono abbastanza confidente il terzo trimestre del 2022 con queste modalità cioè il rispetto della eh degli orari di servizio cioè la corrispondenza fra gli orari delle interrogazioni svolte e le le gli orari di servizio che aveva rendi contato Che gli orari di servizio e gli orari delle interrogazioni erano coerenti La procedura è stata oggetto di consolidamento e rivisitazione proprio ultimamente con una con delle disposizioni del comando generale che sono state emanate da da poco in cui c'è un passaggio specifico che eh secondo me mh eh cristallizza una situazione eh che era mh nella prassi cioè in quello che ho descritto finora e che adesso viene anche positivamente specificata e cioè che il controllo di merito quello di secondo livello sugli accessi e quindi sulle entità interrogate da parte dei militari in servizio presso gli organi giudiziari quindi ad esempio le sezioni di PG o i militari distaccati in DNA o eh situazioni similari spetta all'autorità che ne ha disposto l'impiego e quindi che ha ordinato la consultazione di queste banche dati. Per precisare quindi voi continuate a fare esclusivamente un controllo sul rispetto agli orari dei servizio se ben compreso invece? Ordinariamente sì eh in caso di anomalie si passa al secondo livello. Il secondo livello che nel caso specifico ovviamente non avremmo mai se mai ci fosse stata la necessità azionato autonomamente proprio perché saremmo andati a consultare eh dati, consultazioni e notizie che erano di competenza della DNA. Grazie mille. Senatrice Minasi. Sì grazie Presidente. Sempre sui controlli perché ovviamente vogliamo scendere meglio nel dettaglio. Come sono gestiti gli accessi alla banca dati SIVA, delle segnalazioni di operazioni sospette e quali profili di visibilità sono previsti? E poi se sono previsti meccanismi di controllo sugli accessi alla banca dati SIVA, se sì, da quanto tempo e secondo quali criteri sono stati impostati e quali alert generano e a beneficio di chi? Allora se mi permette parto subito dalla seconda domanda perché la risposta è più eh è più rapida nel senso che esistono questi meccanismi di controllo e sono esattamente quelli che ho spiegato che valgono per tutte le eh le banche dati. La differenza sostanziale è nel caso si attivi il secondo livello quindi la la l'audit sulle entità interrogate è l'autorità a cui bisogna rivolgersi. Nel caso di SIVA si rimane all'interno. Chiedo scusa colonnello abbiamo un problema di collegamento quindi le chiedo un minuto di di per ripristinarlo perché ci sono molti colleghi collegati. e quindi